I distaccamenti dei vigi del fuoco di Polistena, Bianco e Siderno non possono perdere la loro caratteristica di sedi disagiate. Per questo si chiede alle istituzioni, a parlare Giuseppe Rizzo, segretario generale Will di Reggio Calabria, di rivedere questa scelta che rischia di avere ricadute importanti sulla prestazione di un servizio determinante per la qualità della vita dei reggini e ricade pesantemente sulle tasche di lavoratrici e lavoratori già pesantemente penalizzati da salari troppo bassi per le mansioni ricoperte. Continua l'appello nella convinzione che la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori sia di primaria importanza, il sindacato dice di aspettarsi che il Dipartimento riveda una scelta da risvolti penalizzanti per un servizio che garantisce sicurezza sul territorio della provincia di Reggio. Un territorio quello reggino e in particolare della Locride, in cui le distanze non sono misurabili dal satellite alla luce dello stato di arretratezza di una delle infrastrutture viarie principali, quale la strada statale 106, in cui la notte, alle prime luci dell'alba, è difficile trovare un treno in partenza dal capoluogo verso i lembi estremi della provincia, in cui i servizi spesso sono carenti. Ciò che preoccupa il sindacato è che potrebbe fortemente penalizzare i lavoratori di questo comparto insieme alla tavica arretratezza infrastrutturale della strada statale 106 Ionica e il paventato rischio di chiusura prolungata della galleria valico della Limina. Lì, l'avvio di un cantiere necessario per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato da un imponente traffico veicolare allungherebbe ancora di più i tempi di percorrenza delle lavoratrici e dei lavoratori della propria residenza verso gli staccamenti dei vigili del fuoco operativi nella provincia di Reggio Calabria. L'esclusione delle sede disagiate di Bianco, Poliste e Nessiterno dal novero di quelle disagiate, come è facilmente intuibile, finirebbe per arrecare notevole difficoltà per il personale assegnato alla gestione dei turni, soprattutto in caso di emergenze.